ciao a tutti ragazzi sono l'orex mecha e benvenuti in questo nuovissimo video di dragon ball legends nello scorso episodio avevo messo un intro di tre minuti e avevo sbagliato mi dispiace davvero tanto ma no provo a fare un intro come si deve bene vediamo un po le cose con il ticket già le ho viste non ci ho trovato niente niente di troppo stupendo libro di bello vediamo l'emissione comunque quel vegeta esageratamente pieno di stelle xarax comunque ha sboccato goku sui saian blu ed ha portato quasi a livello 5 mila ma voglio sapere io no come caccia ha fatto come cavolo ha fatto ci ha preso vabbè noi intanto torniamo alla nostra storia e vediamo jarbon e doloria lasciate like se non l'avete ancora fatto e iscrivetevi al canale attivando la campanellina con tutto questo intimo allora hit freezer e gogetta e sono tutti e tre sparking tutte e tre sparking cioè no no poi anche far male a hit ma sta perdendo solo il tempo sembra che sta facendo un intersoft e la loro macchina cosa ha fatto? ho bloccato il mio super attacco! allora te lo devi pensare con la morte felici? non sto bene abbiamo fatto tutti ragazzi Sì Vediamo Voglio affrontare Freezer Sembra scavito allo finale Tre di questi Sì 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 non sia puoi dire che non vieno a non si può dire che è d'accio questo è un'unica non mi nemmeno non mi nemmeno cosa vuoi non mi non si può vedere non mi può vedere se mi trattano così tutti i video che mi metto gioco questo sono due cronocrystals mi sono visto che ci sono vieni non è successo niente io non lo vediamo vediamo bene ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto dall'orex mecha è tutto e noi ci vediamo dopo in un prossimo video ciao ciao